Può un negozio di un piccolo paese montano in via di spopolamento pagare le stesse tasse che paga un locale in un centro storico di una città? Scontata la risposta, no, non è giusto. A prevedere, tra le altre cose, sgravi fiscali e attività economiche di frontiera, è però del resto un progetto di legge regionale, a firma del consigliere Lorenzo Berardinetti di Regione Facile e dell'assessore Donato Di Matteo del Partito Democratico. Progetto di legge fermo però da tempo nelle commissioni. Berardinetti sprona dunque la sua maggioranza a stringere i tempi e soprattutto a trovare una copertura economica adeguata in bilancio al provvedimento. I nostri piccoli borghi sono, diciamo, una lotta continua contro lo spopolamento e contro l'altra esigenza che abbiamo con i piccoli comuni. Con il Presidente Luciano D'Affonso abbiamo messo nel master plan delle iniziative per quanto riguarda il recupero dei centri storici, perché chi visita i nostri borghi, logicamente, deve avere una certa decenza urbanistica e decoro sulle strade che frequentiamo all'interno dei borghi. E noi già, io e Donato Di Matteo, abbiamo presentato questa legge che riguarda i comuni sotto i 3.000 abitanti per la Regione Abruzzo, dando delle possibilità di riqualificazione e di incentivi in questi piccoli comuni sotto i 3.000 abitanti in le nostre aree interne. Cioè parliamo tanto di aree interne e questa può essere una cosa concreta per quanto riguarda qualche piccola soluzione per le aree interne. Questa legge prevede anche gli sgravi fiscali per quanto riguarda i comuni, per quanto riguarda la metanizzazione, il gas, il costo del gas, incentivi per quanto riguarda le imprese, i locali commerciali che abitano in comuni, tante piccole cose che richiamano anche la legge nazionale. Il problema è proprio questo, le piccole e medie imprese, i piccoli locali commerciali che noi dovremmo premiare perché le nostre zone montane, io faccio il sindaco a un piccolo comune montano, Santa Maria, avere un locale commerciale in un comune, una frazione in un comune è un servizio che dà ai cittadini, non è una cosa normale che io come sindaco voglio diminuire le tasse, non posso perché la legge è di imponere quanto è il minimo di metterlo. Adesso la legge è stata la legge di principio, per la copertura vediamo in seguito mettendo e istituendo un capitolo l'anno soltanto i piccoli comuni montani e soltanto i 3.000 abitanti. Secondo il suo miglior auspicio quanto si dovrebbe mettere a bilancio? In bilancio dividiamo fra i lavori e il finanziamento dei piccoli locali commerciali io penso che un milione o due milioni di euro l'anno per quanto riguarda i locali commerciali per tutti i comuni, che siamo tanti in Abruzzo, i comuni e le aree interne più dando incentivi per quanto riguarda il PSR, per quanto riguarda tutti i bandi favorendo una premialità per questi piccoli comuni. Poi per quanto riguarda il resto vediamo in base di bilancio finanziaria come possiamo adeguare, dando però concretamente incentivi non è che la legge fosse soltanto la legge di principio altrimenti restano un buco nell'acqua.